L'ultimo, è quattro cazzo No, po' 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 Giro sulle tasse dopo cena Perché cena? Le lasagne Ma che c'è? Ma poi non arriviamo Oh cazzo Aiuto Aiuto Mamma mia, mi sta sboccando Chiudi 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 la gamba Aiuto Chiudi la gamba, mi sta sboccando Chiudi la gamba, mi sta sboccando Allora Fa tutto bene E facciamo Cosa ne pensate? Ma non lo so Io volevo una situazione rilassante Ma non pensavo proprio a questa situazione Amma Mi t'ho preso a girare Mi gira tutto E come? Ma non me lo ricordavo E' una chiamazione di aborto Gli hanno velocizzato ci state! sono pazzi sta uscendo sta uscendo dall'attacca adesso ci spara un po' la tasca t'aiuto oddio mamma mia vabbè facciamoci da male adesso partiamo è tutto bene è tutto bene è tutto bene è tutto bene è tutto bene